Benvenuti ragazzoli, qui è Dalkan che parla. Abbiamo una nuova patch su Diablo 4 in questa stagione 3 dei costrutti, la 1.3.1 che è la build che arriverà l'1 febbraio in questa appunto stagione. Andiamo a vedere di cosa parla, anche se ho sbriciatina qualcosina e vi devo parlare di alcune cose che un po' sono particolari. Qui è la classica cosa che hanno monitorato tutto e hanno ascoltato il nostro feedback, quindi adesso andiamo a vedere di cosa si tratta. Aggiornamenti del gioco, la quantità di salute di un mostro con l'affisso vampirico che può guarire è restata ridotta. A livello Mondale 1 dal 10 al 5, insomma quello che ci interessava di più era dal 50% al 25% perché soprattutto nell'abattuare Auxir ricordo molto bene il fatto che delle volte non si riusciva neanche a killare il mob perché recuperava troppa 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 vita. Nota dello sviluppatore, in una patch futura apporteremo un ulteriore miglioramento sull'affisso vampiresco. Gli attacchi con proiettili dei mostri, come la lancia lanciata dai Khazra, otterranno un effetto visivo quando sono impregnati dall'affisso vampirico. Ciò renderà più semplice identificare quali proiettili possono curare il mostro. Benissimo. Va bene, quando ci sono degli affissi di questo genere è importantissimo perché si notino, perché altrimenti noi non potremmo mai sapere cosa andrà a succedere. Lo vedremo soltanto dopo. L'affisso soppressore è stato modificato, grazie a Divina. Ecco, questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo quando l'ho letta. Se avete visto il video che ho messo ieri con i Rogue quando siamo entrati in quel dungeon di un botto di livelli sopra di noi, quello che ci creava più problemi era proprio il soppressore. Ecco, adesso è stato migliorato, quindi anzi addirittura proprio modificato. Il campo del soppressore non è più sempre attivo, quindi non c'è sempre l'AOE attorno. Ora ha una durata di 6 secondi e un tempo di attività del 50-75%, quindi non dura più quanto prima, questo ci fa piacere. Il campo può essere cancellato, quindi lo possiamo eliminare. Se il mostro con l'affisso è stordito, congelato, abbattuto, forse tipo deizzato insomma. Abbiamo modificato il layout e la generazione dei mostri per diversi dungeon. Sono stati apportati anche degli aggiustamenti minori. Anche nei dungeon quindi sono state modificate queste cose. I sigilli dei Nightmare Dungeon ora mostreranno i livelli che il mostro avrà per il livello del sigillo. Quindi non dovremmo più fare il nostro calcolo, che appunto si faceva dal 53-54, non ricordo mai, più il livello del sigillo per avere il livello del mostro finale. Ecco, adesso lo avremo in automatico, che è utile per noi. Ora, la stagione dei costrutti. Qui c'è qualcosa di un po' particolare. Avevo visto l'altra volta un video di cui appunto Rob parlava del costrutto e di quanto forte fosse diventato. Ora voi sapete benissimo come la vedo io. Se c'è una modifica che va fatta al gioco è sempre quello del discorso del bilanciamento. Delle volte alcune cose fanno poco male e sono poco incisive, altre volte ne fanno troppe. Ecco, questo è il caso. Perché nel video che ho visto io, in pratica, soltanto in una condizione, si riuscivano a fare 30 milioni, 36 milioni con il costrutto. Cioè, il costrutto fa più danno di qualsiasi altra classe, a parte il Barbaro, in quel momento. Probabilmente il Druido li raggiunge pure, ma in quel momento non era possibile fare quei danni. Ecco, diciamo che è stato ulteriormente baffato. I seguenti aggiornamenti sono stati applicati all'abilità del Siniscalco. Hanno aumentato danno girare, hanno aumentato il pugno, hanno aumentato Bushwalk, insomma, hanno aumentato un pochino il tutto. La guarigione è aumentata dal 22 al 32 della vita, appunto con ricostituisci. A livello 1, a livello 10, la guarigione è aumentata dal 40% al 50% della vita massima. Il che delle volte potrebbe essere positivo. Cosa vi voglio dire? Perché quelle classiche effettivamente fanno un pochino di fatica. Adesso con un costrutto più potente, tecnicamente si dovrebbe riuscire a fare più danno. Però è tanto legato anche ai buff che dà il Barbaro stesso. Quindi poi andremo a vedere come funzionerà poi in game davvero questo upgrade. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa storia. Se vi sta bene e si è stato baffato così tanto per rendere più facile la vita alle altre classi. o voleste semplicemente che la vostra classe fosse appunto già di per sé migliorata e che il costrutto servisse semplicemente come supporto. Correzione di bug, accessibilità. Risolto un problema per cui il lettore di schermo non leggeva i punti disponibili nell'arbero dell'abilità o delmeno degli eroi. Va bene? Risolto un problema per cui il lettore di schermo non funzionava correttamente durante la visualizzazione dei possibili affissi durante l'incantamento. Risolto il problema per cui lo screen raider non annunciava se una pietra governativa attiva avrebbe funzionato con una pietra accordante evidenziata. Va bene? Insomma qua sono stati risolti vari problemi in quanto accessibilità. Andiamo a vedere alla stagione dei costrutti. Risolto il problema per cui i capitoli 5 e 6 del viaggio stagionale non riflettevano il potere dell'oggetto e le ricompense ricevute completando i capitoli. Risolto un problema per cui a Yuzan mancava dei getwell dopo il completamento della serie di missioni stagionali. Cioè non so se vi rendete conto, guardate quanti bug c'erano. Ce n'erano tanti e ne stanno risolvendo tanti raga eh. Non sono pochini, sono davvero tanti. E mi fa piacere che si siano messi sotto per risolverli. Buono, questo è molto buono. Andiamo a vedere più che altro al gameplay. Risolto il problema per il quale l'anello dei cieli senza stelle non conferiva accumuli quando si lanciava un'abilità canalizzata. Ecco questo andava fixato. Noi ancora non l'avevamo droppato però appunto c'era questo problema. Risolto il problema per il quale il rogue congelato durante uno scatto poteva non essere in grado di lanciare alcune abilità. Ecco questa cosa potrebbe esserci successa un paio di volte onestamente. Risolto il problema per cui il brute marker non poteva essere pulito se applicato mentre si era in sella. Ah bene. Risolto un problema per cui il turbine poteva incanalarsi e rimanere sul posto quando si utilizzava appunto la tastiera o in certe circostanze anche il controller. quindi fixato anche questo. Buono buono buono. Ok quindi dungeon e fortezza abbiamo risolto un problema per il quale l'animus non poteva cadere nel baluardo rotto o nel burrone oscuro bloccando così la progressione. Quindi praticamente nei dungeon ci sono queste problematiche che magari non abbiamo beccato ma ci sono state. Risolto un problema per cui il muro di nebbia dello zenith poteva essere attraversato mentre il giocatore era sotto l'effetto di un santuario del condotto. Risolto un problema per cui l'obiettivo uccide i nemici nei vari dungeon non poteva aggiornarsi correttamente bloccando la progressione. Questo è noiosissimo. Risolto il problema al cui Balgamard in Tulduldra lasciava l'arena del boss se un altro giocatore del gruppo si trovava fuori al muro di nebbia. Risolto un problema per cui a volte i giocatori non potevano lasciare un dungeon tramite l'azione della ruota, delle motte e l'ingresso del dungeon. Quello che vi dicevo ieri che ogni volta che provavamo ad uscire era buggato quindi vi ricordo che questa cosa è stata appunto risolta o perlomeno dall'1 febbraio. Risolto un problema per cui Watchmen potevano rientrare fuori dalla campagna in Lightswatch bloccando la progressione. Risolto un problema per cui la progressione del Tempio Caduto poteva essere bloccata dall'idolo se veniva ucciso troppo velocemente quindi questo effettivamente poteva succedere. Poi vari problemi sull'interfaccia utente, qua non andiamo a vedere che è troppa roba. Risolto i vari casi in cui gli inviti non venivano inviati correttamente se nel gruppo era presente un giocatore nella modalità cooperativa locale. Ecco, sempre per quanto riguarda questo ci sono sempre vari problemi. Avete presente quando cercate di entrare appunto nel Dalkland 2, ve lo lascio qua sotto? Ecco, delle volte non si riesce a fare entrare la gente perché ci sono un pochino di problematiche. Non solo quella che stanno risolvendo adesso ma in generale delle volte la si accetta e tante volte succede appunto che questa non va al buon fine. Poi c'è anche un discorso, noi stavamo pensando appunto, dato che abbiamo due clan uno di 150 persone e l'altro di un'altra novantina credo attualmente di creare nel caso un unico clan perché io volevo fare tutto nel Dalkland 1, ok? Il problema è che non si capisce esattamente da quanto la gente non entri in game perché sarebbe bello e comodo, parlavamo appunto con i ragazzi, se ci potesse essere una scrittina, un qualcosa che ci permettesse di capire da quanto qualcuno non si connette perché se la gente non si collette da mesi è inutile che stia nel clan quando c'è gente che vorrebbe giocare insieme a noi. Ecco, io per ovviare questo problema ho creato il Dalkland 2 ma per tanta gente che utilizza un solo clan e che vorrebbe appunto avere soltanto gente che sta giocando e che magari le persone che non giocano più, che magari hanno giocato i primi tre giorni e poi non stanno giocando più a Diablo, ecco, bisognerebbe fare spazio in quel caso lì, ma non si può fare perché purtroppo Diablo non permette, Diablo 4, di capire da quanto tempo le persone giocano. Ecco, questo è un piccolo problema, anzi un grosso problema che poi va a riscontrarsi col problema del secondo clan poiché non potendo essere capo di entrambi i clan devo delegare e questa è un'attività social che purtroppo nonostante sia anche un pochino volendo diciamo strizzi l'occhio Diablo 4 alla parte social, al MMO, ma in realtà no perché non ci riesce, perché non lo fa, perché ci ha provato ma non ci ha creduto, quindi dovrebbero migliorare tantissimo questa cosa. Risolto un problema per cui la creazione dell'elisire e della resistenza fulmine non contava per la sfida Master Mixology. Risolto un problema per cui il cosmetico del portale equipaggiato non si applicava ai portali utilizzati durante il teletrasporto di un dungeon da incubo attraverso la mappa. Risolto il problema per quello stemma dell'arlecchino, quindi praticamente il nostro caro amato Shaco era di colore sbagliato quando veniva equipaggiato. Vari miglioramenti e prestazioni, stabilità grafica, interfaccia, utente e audio. Signori questa è la patch 1.3.1 di questa stagione 3 dei costrutti Diablo 4, arriverà l'1 febbraio, preparatevi perché arriveranno altri cambiamenti. Ricordo che ci sarà anche l'evento del risveglio lunare a partire dal 6 febbraio e non scordate che è un evento a tempo limitato. Perciò ragazzole andate a vedere il video così andrete a capire di cosa si tratta. Sono convinto che queste patch possano dare una grossa mano soprattutto alla parte dei bug pics al gioco perché attualmente è davvero strapieno di bug. Mi fa piacere che stiano migliorando tantissime robe, ci sono un pochino di suggerimenti appunto che stiamo dando, ma vorrei tantissimo capire cosa ne pensate per quanto riguarda il siniscalco. Da un pet che fondamentalmente non riusciva a fare nulla, arrivato a un certo punto, ve lo ripeto dal video che ho visto io con il barbaro, arrivare a fare a 36 milioni, 30 milioni ad hit. Ed è una cosa un pochino spropositata perché non ci sono classi che fanno quei danno, perché lui dovrebbe farne più di noi. Quindi mi fa un pochino strano. Fatemi sapere appunto qui sotto cosa ne pensate. Grazie come sempre a tutti per aver visto questo video, vi aspetto in live sulla piattaforma Viola, come sempre su Dalkan Stream ogni giorno da lunedì al venerdì. Se volete appunto supportare il canale iscrivetevi e lasciate un like, da Dalkan è tutto e ci vediamo signori miei in un prossimo video. Ciao!